Castello di Villanova, un ambiente storico ed esclusivo tra le colline toscane Il castello è lo scenario ideale per organizzare ricevimenti, congressi, eventi e occasioni speciali indimenticabili L'ampio e curato giardino che circonda il castello offre una cornice naturale perfetta per trascorrere momenti piacevoli nella stagione estiva e dare risalto a manifestazioni importanti in un contesto accogliente ed unico L'ambiente tranquillo non rinuncia all'atmosfera romantica e prestigiosa in occasione di cene di gala e matrimoni organizzati secondo le esigenze specifiche della clientela Offriamo il castello anche in occasione di riprese cinematografiche e pubblicitarie per spettacoli di cabaret ed altro Vi aspettiamo a Barberino di Mugello in località Le Maschere Per informazioni telefonate al 333 64 33 493 Fax 055 84 20 432 E visitate il sito castellodivillanova.it